La magia di Natale non mancherà per nessun bambino. Sì, esatto. Noi pensiamo che quest'anno tutti possano essere contenti e questo per noi è il regalo più grande. Si chiama infatti Scintille di Felicità, un regalo per ogni bambino ed è un'iniziativa promossa dal Comitato Nessun'Isola con il sostegno del Comune di Sansepolcro e l'azione operativa della Caritas. L'obiettivo è quello di aiutare le famiglie in situazioni di fragilità economica e non far così mancare ai figli l'appuntamento con Babbo Natale. Quest'anno ci saranno ancora più famiglie in situazioni di fragilità e ho pensato a questi bambini che probabilmente riceveranno molti meno regali. Ci siamo consultati e effettivamente ci è venuto in mente che tramite la Caritas potevamo far arrivare questi regali direttamente alle famiglie che ne hanno maggior bisogno. È partita una grandissima gara di solidarietà, l'amministrazione comunale ci ha appoggiato subito, ci ha dato l'appoggio anche come ufficio stampa e ci siamo rivolti ai cittadini di Sansepolcro. Abbiamo chiesto anche l'intervento di qualche club service perché pensavamo che forse non saremmo riusciti da soli a raggiungere i regali che servono perché ci servono all'incirca 150-160 regali. Invece è partita una gara di solidarietà che ci ha lasciato molto piacevolmente stupiti per cui devo dire che probabilmente abbiamo già raggiunto la cifra dei regali ma quindi ogni bambino avrà almeno due regali anziché solo uno. Sarà dunque possibile acquistare sino al 20 dicembre il regalo per un bambino nelle librerie, edicole e negozi di giochi di Sansepolcro riconoscibili dalla locandina dell'iniziativa. Lo può lasciare lì direttamente al negozio perché passano i volontari della Caritas o noi stessi passiamo ogni tanto a raccogliere questi regali e li portiamo direttamente al centro di raccolta Caritas. È molto semplice insomma, tutto il resto è lasciato alla solidarietà, al buon cuore delle persone che si è dimostrato molto grande veramente in questa occasione.